c'è questo palo lì ma ci sono stile, guarda queste tre luci, adesso quattro, guarda lì io c'è una meraviglia, 4-5 anni fa esco fuori a casa mia, dove vedo un affare, ma ti giuro, erano uffoli e vedo una cosa rotonda e sentivo fare uff, 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 uff vuol dire che andavo giù, uff, scavami, uff, uff, uff quella sera, il telefono, l'avevo a me perché c'era proprio una stella ma il rumore, uff, 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 era il mio vicino che tirava la pompa guarda che roba, triangolo, perfetti io l'avevo in giù io l'avevo in giù e si arrivano qua ma lì con i carri di attività mi fa la caduta sono noi possiamo fare la traiettoria no, no, loro vanno giù quali sono? ah, quei puntini stiamo inmancabili una volta giù, stavo andando al mare con gli occhi così al cielo ma non tanto altro c'era tipo una cometa c'era la scena in cuoca e no ma l'avevo vista per un bel po' ah sì, una stella cadente però di gioia erano ragioni di pomeriggio si ganeva proprio ho là ho là mi chica ma